Un ufficio a Pesaro che vuole essere anello di congiunzione fra Marche ed Europa. L'eurodeputato ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha inaugurato all'interno dell'amministrazione provinciale di Via Gramsci un nuovo spazio nella Sala dei Mosaici. Inaugurazione assieme ai vertici dem del territorio a cominciare da Marco Perugini, capogruppo PD in Consiglio Comunale, che sarà il trade union fra Pesaro e Bruxelles. Un ufficio in cui Ricci, come in ogni sua avventura politica, ha portato la lampada dei minatori di Charleroi, in ricordo del nonne della famiglia, lampada affiancata da un disegno del compianto ex presidente della provincia, Daniele Tagliolini. È un ufficio a disposizione dei cittadini per un collegamento più forte con l'Europa, in particolar modo per le forme organizzate dalla nostra provincia, i sindaci, le associazioni di categoria, i sindacati, perché voglio essere molto presente in tutto il collegio, ovviamente non posso che partire dalla mia città. È un luogo che mi è stato messo a disposizione della provincia, ovviamente io pago quello che va pagato per l'utilizzo dello spazio, però ho scelto questo luogo perché qui già tanti amministratori sono abituati a venire, è un luogo nel quale ho lavorato e quindi penso che possa essere utile per tante battaglie europee che riguardano il nostro territorio, a iniziare dal tema delle infrastrutture e dei trasporti, perché sono stato nominato vicepresidente di quella commissione, quindi mi occuperò in particolar modo di questi temi. Mi batterò ad esempio perché si sblocchino velocemente i soldi stanziati per il bypass di Piesorefano per la ferrovia, abbiamo ottenuto 1 miliardo 800 milioni, sono a disposizione della nostra regione, non si capisce perché non gli spendano, è un cambiamento epocale, è l'inizio di un cambiamento epocale perché parallelamente bisogna programmare il potenziamento e magari l'alta velocità della ferrovia su tutto il versante adriatico, ma bisogna avere delle priorità, qui ci sono i soldi, vanno spesi e a mio parere la seconda priorità è nella parte sud della regione dove abbiamo già un problema di arretramento, un'esigenza di arretramento dell'autostrada, quello potrebbe essere un problema dal quale deriva un'opportunità perché si può abbinare l'arretramento della ferrovia con quello dell'autostrada stessa. Un luogo per confrontarsi sulle politiche europee, un luogo magari anche per compattare il partito democratico regionale verso le prossime sfide. Sia in Italia che nelle Marche i cittadini si aspettino un'alternativa forte, non è un caso che nelle Marche ottenuto un grande risultato perché dentro quelle 52.000 preferenze marchigiane c'è anche una voglia d'alternativa e quindi tutti devono ascoltare questa voglia, metterci a disposizione e mettere da parte magari i vecchi scresti del passato perché dobbiamo costruire un'alternativa che passa non solo attraverso il PD ma attraverso una nuova alleanza di centro-sinistra che tenga dentro i 5 stelle, tenga dentro verde e sinistra italiana ma che veda anche all'interno una forza moderata che oggi non c'è perché non possiamo lasciare il centro alla destra, dobbiamo provare ad avvicinarlo alle posizioni democratiche progressiste.